Analisi suppletive per monitorare lo stato dell'inquinamento del mare di Pescara. Dopo i tanti allarmi che si sono succeduti negli ultimi tempi, Riccardo Padovano, del sindacato dei Balneatori, mette in campo un'iniziativa per garantire tranquillità a tutti i cittadini. Abbiamo incaricato una nostra società, una società vicino a una società, come aveva detto Pocanzi, per dargli questi incarichi per verificare e fare le analisi su Via Balilla, Via Galilei e Via Lemuzzi. Su Via Balilla abbiamo 55 mg di escheria coli e 43 il limite dei coli batteri. Il massimo è 500 e sotto è 200. Questo è in poche parole che voglio dire. Voglio dire che se noi ripetiamo ogni settimana lo stato delle acque nel nostro mare, molto probabilmente tranquillizziamo i bagnanti e così si possono fare i bagni. Che significato ha? Aspettare che la regione ci dia il parere favorevole al secondo dato. Questo è l'aspetto burocratico. Può anche per me rimanere il paletto del divieto di balneazione, purché i cittadini possono sapere che se si vanno a fare il bagno, il bagno è il balneabile. Questo è l'esame che abbiamo fatto lunedì. Martedì prossimo lo ripeteremo e ogni settimana daremo questo bollettino del mare. Deluso, dice Padovano, in un momento di così grande crisi per il settore, crisi causata da allarmismi e criticità, avrebbe voluto più vicinanza da parte delle istituzioni, che invece sono state latitanti. A me piaceva che al nostro fianco ci fosse stata anche altre istituzioni, in modo che la nostra difesa diventa sempre di più, non che la nostra non sia credibile, ma che la nostra possa essere supportata, perché forse nessuno si è accorto, ma sulla spiaggia di Pescara hanno disertato tutte le colonie dell'intera provincia di Pescara. E questo dovrebbe far preoccupare non soltanto i balneari, ma anche l'indotto che sta dietro.